Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info C'è un'impresa da Pertanetti, secondo Tavalli, qui avanti l'elettro, dicevi, guardiamo con un cucinale, insieme con il Pertanetti, sentiamo delle persone con Tavalli e tuoi, dice, con me vado a pagare, ma poi non c'è, se mi vado a pagare, non vado a pagare. Quei canotti non ti vado a mettere, non ti vado a mettere. No, non lo sapevo io, non lo sapevo. Mi hai detto una cosa, non lo sapevo. No, non lo sapevo io, non lo sapevo io, non lo sapevo io.